ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik l'ultimo consiglio comunale di rivarolo canavese vantava un pubblico di 14 persone 15 persone poco poco più ma questo perché perché anche nelle dirette streaming dei consigli comunali per esempio di pont canavese abbiamo un pubblico superiore al 50 per cento della popolazione della città citata ma è questo perché siamo arrivati a questa situazione questo disinteressamento della politica allora sicuramente questa amministrazione non vanta una comunicazione molto efficace anzi quasi assente e questo secondo me ha dei gravi danni soprattutto sulla cittadinanza e sulla politica a livello locale e soprattutto perché come fortemente voluta la libera ossia le dirette streaming sono state fortemente volute da questa associazione antimafia non capisco il motivo perché queste dirette streaming non vengano caricate sul sito ufficiale del comune di rivarolo canavese anche perché è molto importante per la cittadinanza riuscire a informarsi sui punti salienti sui punti in cui si svolge il dibattito tra maggioranza e opposizione quindi ci ritroviamo in una città in cui manca dialogo politico in cui l'opposizione maggioranza non comunicano a livello mediatico non comunicano soprattutto a livello agli occhi della cittadinanza e questo cosa porta porta un disinteressamento totale della cosa pubblica e porta una polarizzazione del dibattito che può sfociare col passare del tempo in toni molto accesi molto violenti questo che stiamo un po vivendo negli ultimi mesi infatti e quella soluzione di tutto ciò secondo me la soluzione in primis che dovrebbe la maggioranza la giunta comunale subito attuale è quella di permettere ai cittadini di riuscire a guardare le dirette stream dei consigli comunali in qualsiasi momento perché può essere che magari i cittadini durante nell'ora in cui appunto il consiglio comunale si svolge non possono seguirlo quindi secondo me a mio parere sarebbe un'ottima idea riuscire a mettere a disposizione dei cittadini consigli comunali soprattutto perché nel 2021 in un mondo fortemente digitalizzato mi sembra quasi assurda questa cosa che un comune come però non faccia questo e secondo me bisogna subito intervenire su questa tematica anche perché è molto importante io non credo che l'amministrazione voglia nascondere informazioni alla cittadinanza però quello che si ottiene è proprio questo quindi bisogna cercare di mettere a disposizione dei cittadini sul sito ufficiale sulle pagine social queste dirette streaming in qualsiasi momento in qualsiasi ora grazie dell'attenzione ci vediamo la prossima puntata di rockpolitik